Salve ragazzi bentornati sul mio canale, io sono Annibale e oggi vi porterò una nuova guida di Edis che diciamo è la continuazione di quella per i novellini perché oggi parliamo della guida per gli esperti e quindi trovate qui tutte quelle meccaniche che io vi ho messo dal precedente video per non rovinarvi la sorpresa della scoperta quindi parliamo di tutte quelle meccaniche, di tutte quelle cose che voi scoprite una volta che siete riusciti a fuggire o comunque una volta che avete fatto più di 3-4 run vi dico già da subito che alcune porzioni ve le spiegherò direttamente live, in che senso, cioè con il gioco aperto quindi non starò qui a parlare alla telecamera per poi montare il pezzo di gameplay o di gioco sopra ma alcune parti come ad esempio il patto della pena oppure ancora il codex per quanto riguarda i rapporti con i personaggi per far continuare la trama e andare oltre quello che è il primo finale che ottenete ve li presenterò così perché secondo me è il modo migliore per spiegarveli nella maniera più semplice possibile e dandovi un riferimento visivo detto questo io penso che possiamo tranquillamente iniziare sigla allora riprendiamo da dove ci siamo interrotti dall'altra volta e cioè dal codice cosa succede? ad un certo punto Achille che sta qui dopo varie run e varie conversazioni vi dà questo praticamente un libricino dove ci sono scritte tutte le descrizioni dei vari personaggi ma anche dei posti e dei nemici e delle armi anche come si vede e si completano man mano che incontrate i nemici, man mano che utilizzate le armi, che andate nei posti eccetera eccetera però la parte importante è questa qui, quella dei personaggi perché oltre a esserci vabbè la descrizione che si sblocca col tempo andando avanti eccetera eccetera ci sono questi cuoricini che cosa significano? e come vedete non ci sono per tutti ok praticamente queste sono le relazioni che potete portare avanti nel corso del gioco che significa le interazioni ovvero man mano che voi aumentate i cuoricini si sbloccano dei dialoghi e fino ad arrivare ad un punto in cui li esaurite come ad esempio prendo questo qui ad esempio Ade e voi avete completato praticamente la parte di storia comunque di interazioni relative a quel personaggio ovviamente l'ho completato ad esempio anche per Caronte però si può fare anche per altri però come si riempiono questi contatori e perché sono importanti? allora sono importanti perché portano avanti gran parte della storia del gioco ma soprattutto della possibilità di arrivare ai finali delle loro storie delle storie dei personaggi e molti di questi sono intrecciati tra di loro e quindi non potete preferire uno rispetto all'altro ma dovete cercare di portarli avanti sempre un po' tutti insieme anche se ci sono dei personaggi più importanti di altri come ad esempio Onyx a cui sono collegate un po' tutte le storie ad esempio senza far arrivare lei ad un certo punto anche se ad esempio potenziate Orfeo e Redice per cercare di portare avanti la loro storia e rimetterli insieme se non arrivate ad un certo punto di interazioni con Nix non vi si sblocca la possibilità di poter prendere il loro contratto e scioglierlo e farli rincontrare quindi questo fatto è da tenere a mente non vi potete dedicare prima uno poi l'altro eccetera eccetera ma come si aumentano? allora praticamente i cuoricini si aumentano con questo oggetto qui che è il nettare questa boccettina questa o la si compra dal droghiere che sta nella dimora che sta nelle stanze insomma ricreative oppure la si prende nelle stanze o ci sono pure dei doni che la danno quindi dipende ci sono vari modi per prenderla e praticamente voi potete darla ad un personaggio con cui dovete interagire vi esce anche il bottone adesso vi faccio vedere andiamo qua ad Hypnos ad esempio qua vedete non mi esce perché il cuore presenta una chiave significa che io devo fare qualche altra cosa per poter sbloccare la possibilità di andare avanti nella relazione con lui se però aspettate ci andiamo vicino non ho nessuno più a guidarmi però questo qui ad esempio qui vedete vi esce il comando sotto con sottoscritto offri qui offre un altro oggetto perché ad esempio con CER però sono andato già più avanti e da un certo punto in poi non vogliono più il nettare vi serve questo qui l'ambrosia che è un altro oggetto che si guadagna in realtà negli stessi modi del nettare solo che ve lo rilasciano i boss invece che trovarlo nelle stanze così a caso e praticamente offrenderglielo voi aumentate il cuoricino la prima volta che date il nettare a un personaggio si sblocca un oggetto cioè ognuno di loro vi regala un oggetto che vi farò vedere dopo perché vengono messi in una cassetta che sta vicino alle armi che usate per scappare e insomma vi danno determinati bonus vi fanno fare determinate cose in game sicuramente il più utile è quello di Euridice soprattutto se dovete continuare a giocare ma dopo vediamo e questo diciamo è la parte relativa alle relazioni come ovviamente li potete dare ai residenti della dimora di Ade cioè a tutti i personaggi che compaiono qui all'interno voi però li potete dare pure alle divinità dell'Olimpo e il procedimento è lo stesso come vedete è che qui si bloccano quindi dovete fare altre cose per sbloccarli ora a volte dovete fare un'azione specifica altre volte invece dovete portare avanti prima le interazioni con altri personaggi e poi vi si sblocca quindi quando vedete il cuore bloccato può succedere per varie situazioni o perché non avete le relazioni con altri personaggi oppure perché dovete fare un'azione in particolare tra altre cose come vi ho fatto vedere nello scorso video questo il codice è utile anche per questo perché voi andando sulle varie divinità da un certo punto in poi potete vedere pure i doni che vi rilasciano e tra altre cose vi dice anche se vedete sulla destra quello che vi serve per avere questo dono eccetera eccetera quindi è molto utile se state facendo delle corse e volete fare delle partite con delle abilità un po' più strutturate e quindi non volete prendere solo roba a casa ma rendervi anche conto di quello che succede tra altre cose ce ne sono alcune che hanno dei requisiti particolari ad esempio questa qui che vi sto facendo vedere vi richiede un'arma particolare per potervi essere dato quindi se non avete quell'arma non capiterà mai tra la pull dei doni che potete avere e diciamo questo è un po' tutto quello che riguarda il codice cioè il consiglio generale è di essere bilanciati e comunque all'inizio di concentrarsi molto su Nix e poi distribuirlo un po' tra le varie divinità comunque ricordatevi di cercare di andare per gradi e non concentrarvi solo su un singolo personaggio perché alla fin fine non vi serve perché vi si blocca semplicemente però non finisce qui perché alcuni personaggi in realtà non li trovate né nella dimora né fanno parte del pull dei dèi perché da un certo punto in poi andando avanti nelle run sono sicuro che sarete incappati in quel punto interrogativo fatto di roccia ce n'è uno per ogni livello quindi ognuno degli strati per cui voi fuggite cercando di uscire dall'Ade e questi nasconde un personaggio speciale il personaggio speciale di quel livello è sempre quello troviamo nel tartaro sisifo nell'asfodelo erudice e poi patroclo nei campi elisi e questi sono dei personaggi unici cioè che si trovano soltanto lì e il loro emblema esce in maniera randomica per cui ogni volta che lo vedete andateci e cercate di portare avanti le interazioni con loro ognuno di loro poi vi darà ovviamente quando donate il primo nettare vi darà un oggetto particolare di cui ho detto forse il più forte è quello di Euridice però vi daranno anche semplicemente parlandoci quindi ogni volta che entrate lì parlando vi daranno dei bonus alcuni che sono pure molto potenti ad esempio sisifo vi dà vita oscurità soldi Euridice vi fa salire di realtà i doni oppure vi fa salire di livello oppure vi aumenta le probabilità di doni di percentuali più alte e patroclo ad esempio vi recupera una possibilità di morire piuttosto che aumentarvi l'attacco cioè sono varie le cose che fanno e vi danno sempre dei bonus per cui ogni volta che li incontrate andateci però ce n'è un altro molto particolare che è questo qui che è Chaos che voi incontrerete sotto forma di pozze di colore viola che usciranno nei livelli random cioè possono uscire in tutti gli strati dell'inferno mentre fuggite e praticamente per entrare all'interno di questa camera voi dovete pagare un tributo di sangue cioè praticamente vi dovete infliggere del male perdete punti vita ed entrate in quest'altro livello dove c'è lui che vi dà dei bonus però sono dei bonus collegati a malus cioè ad esempio vi può aumentare l'attacco del 120% però per tre stanze ogni volta che fate l'attacco speciale perdete vita quindi non lo potete utilizzare poi passate quelle quattro camere si attiva l'effetto che effettivamente vi fa aumentare l'attacco ovviamente anche loro hanno le loro storie come vedete quindi cioè siate sempre pronti ad avere nettare o comunque ambrosia poi per i livelli successivi da potergli dare perché comunque escono randomicamente cioè non è garantito che per ogni run voi li incontrate quindi onde evitare perdere di tempo siete pronti altro elemento di cui ho accennato alla fine del video precedente è l'appaltatore allora da un certo punto in poi compare l'appaltatore bade vi parlerà insomma vi dirà che c'è necessità di ristrutturare la dimora eccetera e comparirà vicino al trono questo personaggio in realtà è un trittico di personaggi come vedete l'appaltatore non solo ha una funzione diciamo estetica per cui cambiare magari i colori e i tendaggi eccetera eccetera ma poi ha depure dei risvolti pratici perché voi interagendoci potete spendere le gemme o i diamanti qui ovviamente ho già comprato queste cose perciò c'è la b e non c'è un prezzo ma comunque voi comprate questi oggetti che possono andare a modificarvi anche le strutture dei livelli e possono andarvi a immettere degli oggetti all'interno della stanza che vi danno dei bonus ad esempio qui vedete il primo proprio era una fontana curativa cioè voi potete con le gemme comprare delle fontane curative che sono delle stanze a parte in cui voi randomicamente potete entrare nei vari livelli ce n'è una per livello questa ad esempio è quella del tartaro tra parentesi c'è il street ma qui ops qui c'è quella della sfodelo oppure addirittura potete potenziarle addirittura ad esempio qua questo è un potenziamento che la fontana vi dà più energia del solito comunque voi le inserite e sono delle camere extra ma non solo e voi potete ad esempio inserire delle cabine per cambiare gli oggetti tra un intermezzo di livello e l'altro cioè tra quella stanzetta che voi utilizzate per salire al livello successivo oppure ancora uno degli oggetti più utili è questa della cambio cose a caso vabbò quella della lista delle profezie delle moire che in realtà è il primo che dovete comprare il primo appena lo vedete compratelo perché praticamente vi dà dei macro obiettivi da raggiungere che vi ricompensano con gemme il sangue dei titani vi danno anche l'ambrosia cioè insomma vi riempiono di oggetti così riuscite ad ottimizzare le varie run che voi fate tra altre cose alcuni oggetti estetici qui ad esempio vedete l'indice del codice che vi dice quali doni vi danno le varie divinità qua potete aggiungere i vasi con le monete durante i livelli così raccogliete soldi durante i livelli insomma sono tantissime ma tra l'altro come vedete ci sono anche gli oggetti che vi servono per portare avanti le storie perché ad esempio questa è la sentenza di Euridice e Orfeo per poterli liberare e ce ne sono altre che non vi faccio vedere perché comunque non vi voglio rovinare troppo la sorpresa però un altro oggetto che dovete sviluppare subito è il il calamao da pesca o meglio sarebbe la canna da pesca per così intenderci perché voi durante i livelli potete pure pescare però ci arriviamo subito le decorazioni che voi comprate in realtà non hanno sempre soltanto una motivazione estetica ad esempio Hypnos qui ha questo sgabellino questo glielo ho comprato io una volta che glielo comprate lui fa altri dialoghi oppure vedete questa è la sedia di Orfeo qui potete comprare gli spartiti musicali eppure lì si sbloccano altri dialoghi quindi cioè molti di questi hanno delle rigatute pure per la storia dei personaggi tra altre cose alcune volte come moneta di pagamento per gli oggetti più rari vi chiedono le gemme cioè i diamanti voglio dire quindi non le gemme ma i diamanti quindi dovete stare attenti pure a questo e comunque cercate sempre di dare priorità a tutti quegli oggetti che vi possono aiutare nelle run ma sicuramente i primi due che dovete comprare sono questo e il come si chiama è la canna da pesca appena è possibile perché sono quelli che vi vanno ad ottimizzare le varie corse che fate all'interno del gioco però a che vi serve la canna da pesca in tutto questo voi praticamente quando la sbloccate potete andare a pescare i pesci che escono così random durante le corse vedete un brillore ai bordi della mappa e più lo sentite anche ma comunque una volta che avete riperto questa stanza perché questa si riapre dall'appaltatore è la prima cosa che fa in realtà ve la fa fare il gioco direttamente quindi non vi dovete applicare più di tanto poi la potete abbellire così come la vedete ma se voi andate dallo chef potete consegnarli quello che pescate e lui vi dà degli oggetti come ricompensa eccoli qua vedete possono essere molto molto varie secondo quello che prendete e in realtà io non ho ancora capito come prenderli tutti perché vedete ce ne sono alcuni ancora da svelare però la maggior parte sono stati sono stati presi e questo è tutto parliamo un po' della teca allora la teca si trova fuori dove ci sono le armi e prima della parte che poi vi fa iniziare effettivamente la vostra run sono sicuro che ovviamente l'avete vista però appunto la teca è collegata alla questione del codice e a quel primo cuore che voi vedete quello col fiocchettino viola perché perché nel momento in cui voi donate la prima boccetta di nettare alla conquista di interloquendo in pratica questo vi regala un oggetto e quindi ognuno di loro che ha appunto questa striscia con i cuori vi regalerà un oggetto tra altre cose voi potete capire che è necessario dargli la boccetta quando vedete che a un certo punto c'è scritto scopri di più approfondendo il tuo rapporto con in questo caso c'è il cuore bloccato quindi non serve la boccetta e una serve altro quindi non basta solo parlarci però vi da l'int necessario invece ci sono altri che vi dicono vi dicono semplicemente scopri di più parlando con vedete lì c'è è bloccato ma è bloccato perché devo parlarci ancora otto volte non perché non gli ho dato abbastanza regali tra virgolette comunque i doni poi li trovate qui e ognuno di questi vi fa fare delle cose tipo no questo ve lo dà cerbero vi aumenta in questo caso di 38 la vita totale però ognuno di questi oggetti ha un suo grado in pratica lo equipaggiate più stanze superate con questo oggetto più il suo livello aumenta arrivato 8 incontri sale di grado e quindi anche la percentuale del bonus del beneficio che vi dà aumenta insieme a lui ora non mi metto a farvelo vedere uno per uno perché sinceramente si spiegano anche da soli e non c'è bisogno di star qui a metterseli a spiegare una lol ve li potete leggere anche da soli perché appunto sono molto 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 comprensibili vi posso dire però che più utili sono sicuramente questo la ghianda sempre verde perché praticamente vi rende invulnerabili a un tot di attacchi dei boss che cambiano a seconda del loro grado capite che se voi avete difficoltà che ne so con Teseo e il Minotauro oppure con Ate è una cosa del genere anche se vi pare all'inizio soltanto da 3 attacchi vi aiuta tantissimo perché appunto quel colpo in meno che avete preso potrebbe fare la differenza tra la vittoria o la sconfitta ancora ad esempio c'è il il fiorellino di Persephone che vi fa aumentare di livello le abilità man mano che voi superate le stanze e questo pure è utilissimo questi due diciamo sono il top notch cioè il massimo quelli più utili soprattutto per chi sa chi vuole arrivare ancora degli obiettivi e non è diventato proprio un pro del gioco cioè che fa le stanze ad occhi chiusi ad esempio all'inizio questo lo usate poi dopo lo abbandonate almeno che non state provando un'arma particolare dovete scappare con un'arma allora lo andate ad utilizzare perché insomma quell'arma non è molto confortevole per voi non vi sentite a vostro agio fate un po' di errori eccetera eccetera vi aiuta tanto sinceramente però arrivati a un certo punto non la usate più e utilizzate robe un po' più complesse tipo la farfalla che vi da Thanatos praticamente per ogni stanza che superate senza essere colpiti voi aggiungete un maggioramento ai vostri danni tenete a mente una cosa voi nel momento in cui cambiate tra un livello e l'altro e dall'appaltatore vi siete fatti mettere la cabina trasportabile che quindi trovate tra un passaggio e l'altro dei livelli se voi partite non lo so tipo col collare di cerbero poi la aprite e mettete la farfalla sappiate che poi il collare non lo potete usare per tutta la run cioè finché non la finite non lo potrete più rimettere ok tra altre cose quando usate oggetti come questo che vi aumentano la percentuale del danno legato a un determinato elemento sappiate una cosa se tipo questa la usate no arrivate a più 20% di danno perché superate tante stanze senza farvi mai colpire nel momento in cui voi la togliete voi quel bonus l'avete perso non vi resta quindi tenetela a mente questa cosa perché è importantissima a molti infatti se vedete i commenti sia sul reddit o su altre guide fanno l'errore di equipaggiarla poi toglierla pensando che il danno resta ma non è così poi c'è una parte ancora di questa bacheca che è quella che sta sotto quella con questi cuori sbloccati e questi piccoli oggettini praticamente queste sono delle invocazioni che voi potete cambiare durante la battaglia chiamare durante la battaglia e si sbloccano proprio quando voi superate no? quella chiave quel bloccato tra le interazioni e allora alcuni personaggi vi danno questo oggettino ulteriore quando gli date la prima ambrosia perché voi potete chiamarli in vostro soccorso e vi aiutano durante la battaglia e poi ci sono le armi come funzionano le armi ovvero voi sapete già usarle le avrete sicuramente usate e sbloccate e sbloccate tutte no? con le chiavi qui li vedete e ovviamente vi sembrano diverse questi sono tutti gli aspetti segreti delle armi tranne per il guanto che è nel suo terzo aspetto ora faccio vedere dei guanti ogni arma ha tre aspetti voi sbloccherete per primo questo poi ce ne sono altri due che potete sbloccare semplicemente li sbloccate utilizzando il sangue del titano pagate il sangue del titano si sblocca quella forma e la usate però le ultime forme cioè la quarta forma è sempre bloccata e richiede dei requisiti particolari per essere sbloccata diciamo che funziona così grosso modo dovete avere il tavolo delle profezie quello che vi ho detto di sbloccare dall'appaltatore dovete essere riusciti ad arrivare fino alla fine quindi aver battuto il boss finale ed essere fungiti meno una volta quindi dovete almeno scappare una volta successivamente dovete avere almeno speso 5 di sangue di titano per quanto riguarda l'arma ma non importa se ad esempio 5 di sangue l'avete speso tutto sul selmiante di zagreus invece che sul nemesi no è complessivo potete spenderne pure 2 qua e 3 qua non cambia niente l'importante 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 è che avete speso almeno 5 di titano di sangue di titano per quell'arma e poi c'è l'ultimo requisito che è quello più difficile perché queste quarte forme si sbloccano soltanto se avete una frase di sblocco che significa dovete parlare con quel personaggio che conosce quella determinata arma e lui una volta che avete raggiunto quei requisiti vi dice la frase che vi permette di sbloccare l'arma ed è un casino perché per quanto riguarda la lancia la lancia l'ultimo possessore cioè è stata Achille quindi voi arrivate a un certo punto parlando con Achille se avete soddisfatto quei requisiti infatti è sempre il primo che sbloccate perché in realtà è il più semplice da sbloccare vi dirà qual è la frase di sblocco e vi si sblocca questa la lama di Yang Yu la cosa importante è che voi con questi aspetti celati riuscite a fuggire almeno una volta la fuga non deve essere completa cioè dovete arrivare almeno all'esterno e vi si sblocca un altro tratto sulla profezia cioè sulla lista delle profezie vi danno degli oggetti insomma però è importante che voi riuscite ad arrivare lì cioè riuscite ad arrivare all'esterno ok con quell'arma le altre poi si sbloccheranno di seguito ad esempio per quanto riguarda lo scudo di Biwulf Chaos vi darà la frase per l'arco invece Artemide ok per Malfon per i guanti ve li darà il Minotauro perché voi il Minotauro ad un certo punto lo incontrate nei campi Elisi così randomicamente all'interno delle stanze quando vedete la stanza con il teschio nel campo Eliso se andate lì molto probabilmente esce il Minotauro lui se voi vi parate davanti a lui con i guanti e avete risolto sempre i requisiti i requisiti di prima sono fondamentali cioè li dovete risolvere ok vi dirà la frase di sblocco voi semplicemente una volta che avete terminato la run se no stavate usando l'arma specifica però in realtà spesso e volentieri la state usando però non è necessario cioè potete stare usa pure la spada parlate con Artemide e vi dà la frase di sblocco comunque mettiamo che quello è il caso voi venite qui prendete l'arma riinteragite lui invece di aprire questa schermata che voi vedete gli dice la frase si sblocca il sembiante e poi dovete pagare 3 per poterlo usare e funzionano tutte così le armi per quanto riguarda la spada ve lo dice Nyx e qui in realtà io ad esempio ho avuto un po' di problemi a sbloccare la spada nella forma di Realtù perché Nyx non mi dava la frase ma semplicemente non me la dava perché non avevo portato la relazione ad un buon livello infatti come appena sono arrivato all'ambito cioè che è uscito il cuore così bloccato lei l'altra volta che sono andata a interagire mi ha dato la frase di sblocco quindi anche se non dovesse succedere tenete in considerazione che pure questo potrebbe essere una situazione perché non siete entrati in confidenza con il personaggio quindi non vi rilascio la frase quindi non vi preoccupate l'importante è che voi soddisfate i requisiti base che sono quelli che ho detto all'inizio se avete fatto quello potete stare tranquilli che a un certo punto non importa vi daranno la frase quindi se anche non succede state tranquilli prima di passare al di fuori del gioco voglio spiegarvi il patto della pena dopo che siete riusciti a portare a termine una fuga ad un certo punto vi compare davanti al cancello che ormai penso conoscerete a memoria che vi serve per fuggire questo teschio con sta pergamena a volante tutta dorata questo è il patto della pena ed è legato alla meccanica del calore che sono quei teschi incandescenti che vedete su quel drappo blu in basso a sinistra con il sedici cos'è sto patto della pena a che serve io stesso all'inizio mi sono sentito un po' perso e non capivo a che diavolo serviva allora detto in maniera molto banale il patto della pena vi da una serie di modificatori che vi rendono la partita più difficile però contemporaneamente vi fanno guadagnare calore il calore serve o per entrare nelle porte del re rebro che sono delle stanze sfida che dopo vi spiego oppure appunto per bloccare quelle state all'esterno oppure per resettare le ricompense che vi danno il boss del gioco voi quando fuggite ad esempio qua resetto tutto guardate il calore scende voi vedete che lì c'è scritto taglie e c'è scritto il nome dell'arma e le ricompense voi sapete che i boss hanno delle ricompense quali il sangue del titano il diamante e l'ambrosia una volta che voi li avete sconfitti quelle ricompense voi le avete prese quindi quando ci ricompattete vi danno semplicemente l'oscurità il patto della pena vi permette di poter riottenere quelle taglie quindi voi azzerate tutto però dovete arrivare a un minimo di calore che aumenta ogni volta che voi fuggite ad esempio guardate dove c'è scritto termini al secondo punto c'è scritto che il calorimetro può arrivare fino a 3 cioè io lo devo far salire a 3 quindi ad esempio metto questo modificatore qua no ok perché da 3 direttamente così facciamo prima nel video vedete mi si sono resettate le taglie se io però non attivavo questo da 3 no attivavo questo da 1 vedete che le taglie non mi si sono resettate perché lui a quel punto 2 mi vuole dire che il calore minimo che io devo mettere nel condatore per riprendermi quelle ricompense è 3 se ne metto di meno io posso ripartire però quella roba non mi viene ridata quindi io devo arrivare al minimo a 3 questo però significa una cosa che io posso metterlo a 3 ma io posso arrivare pure più in alto ok lui mi dice è decisamente troppo è troppo pieno perché in realtà non mi serve tutto quel calore per riazzerare le ricompense però io lo posso fare perché magari voglio completare altri obiettivi magari voglio entrare nelle porte del re bro eccetera eccetera il calorimetro così funziona e questo è l'utilizzo del calore voi vi starete chiedendo però mettiamo caso no che tu parti col calore a 3 ti prendi la ricompensa del tartaro batti l'idra nei prati ti prendi la sua ricompensa vai pure nei campi elisi batti pure il teseo e il minotauro poi arrivi però fuori all'ostige e muori Adi ti uccide come funziona questa cosa beh funziona così il calorimetro è legato all'arma ad esempio con l'arco mi dice che mi serve minimo 3 perché io l'arco l'ho usato poco per fuggire ok mentre la spada tipo l'ho usata qualcosa come 17 volte e sarò riuscito a fuggire con la spada tipo 7 8 volte il calorimetro minimo è molto più alto cioè devo arrivare 8-9 per poter fuggire e riavere le mie ricompense ok però mettiamo caso che io parto così con l'arco e come vi ho detto muoio da ade praticamente io ho già preso quelle ricompense quindi non posso più prenderle finché non riesco a battere ade cioè se anche io rialzassi il calore cioè tipo lo facessi arrivare pure a 10 quelle ricompense non mi uscirebbe più il punto interrogativo sopra ma uscirebbero come già prese perché io mo' per risettarlo devo per forza vincere e quindi dovete tenere a mente anche questa cosa purtroppo purtroppo tra virgolette è molto importante perché alcuni oggetti cioè voi il diamante lo potete comprare pure da altro chiere soltanto che vi chiedete delle robe a volte impossibili oppure magari a volte il sangue del titano ve lo dà per un po' di oscurità che da un certo punto non vi serve neanche più tanto perché potenziate tutto allo specchio e poi però magari per per ottenerla non avete quell'offerta che vi permette di usare materiali che non vi servono ma vi inizia a picchiare il droghiere vi chiede no dammi 5 diamanti per una cosa di una bollina di sangue del titano capite che non è possibile quindi state molto attenti al patto della pena sembra macchinoso ma non lo è va soltanto capito io all'inizio non ci ho capito niente poi dopo giocando ne sono venuto a capo e ho capito come si facevano ora io non mi metto a guardare ogni singolo modificatore ok perché c'è scritto molto bene quello che fa vi posso dire che quelli più comodi per voi dipendono da come giocate anche se comunque ce ne sono alcuni che sono molto cattivi questo qua della vita ad esempio vi fa recuperare meno vita alle fontane oppure agli oggetti curativi e questo a lungo andare vi può creare dei problemi come estremi rimedi o modificatori per i boss se ne aggiungete 3 vi modifica tutti i boss cioè i boss utilizzeranno dei pattern diversi per attaccarvi anche l'arena a volte saranno diverse quindi dovete stare attenti così come un altro cattivissimo è questo qua che voi dovete dovete dare i vostri doni processo di ratifica cioè dovete ogni volta che passate da un livello all'altro no dove sta aspettate ve lo faccio vedere questo qua dogane infernale cioè ogni volta per uscire da un livello dell'ottere tomba quindi che ne so per passare da tartaro ai prati della sfodelo è dovete sacrificare uno dei vostri doni e questo può essere rompiscatole come pure questo qua che vi riduce la scelta dei doni a meno uno per ogni grado cioè significa che voi più ne aggiungete meno doni avete quindi arrivate ad un certo punto che avete un solo dono e non potete più scegliere un tubo poi ce ne sono alcuni stupidi proprio tipo questo qua vi aumenta i prezzi di di garonte ma voi se ormai siete in grado di gestirvi la run non vi serve più comprare niente oppure questo qua pacchetto di benefici cioè dice che i nemici con le armature hanno dei privilegi a volte si deletrasportano a volte possono dare le armature agli altri però ragazzi ve lo dico è tutta roba molto gestibile oppure c'è quello là che vi aumenta i nemici chiamate all'appello vi aumenta il numero dei nemici per ogni incontro anche stupido certo che se mettete questo e mettete ginnastica aziendale che è quello che aumenta la vita dei nemici quindi voi aumentate sia il numero dei nemici che la loro vita e allora si sta creando un problema ok quindi non abbiate paura di sperimentare e soprattutto ci sono quelli là che vi ho detto che sono proprio cattivi e basta altri che invece dipendono da voi e ad esempio contro le modifiche dei boss ormai sto alla run penso 50 non ho avuto nessuna problema mi sono messo sotto gli uccisi subito quindi dipende tutto da voi l'erebo è una zona particolare che voi potete sbloccare dall'appaltatore e che corrisponde diciamo a un'arena per entrarci una volta che l'avete acquistata dall'appaltatore dovete semplicemente giocare ad un certo punto invece di comparirvi l'icona di caos a volte nella mappa vi può comparire l'esticona di fuoco questo cerchio con un premio e quella è la porta che vi conduce all'erebo per entrare dovete pagare con il calore il calore dipende dal patto della pena che voi avete impostato e sappiate una cosa se voi impostate 3 di calore e poi fate un'altra run e ne impostate 2 voi non è che avete un calore totale di 5 il calore è singolo per quella run se voi siete partiti con 18 di calore quella run vi darà 18 di calore e quindi voi lo potete utilizzare questo significa anche una cosa scendete nel tartaro passate una porta a un certo punto arriva a sticona di fuoco e vi porta nell'erebo e poi vi dice senti 5 di calore e vai voi ne avete tipo 10 andate non significa che avete pagato 5 di calore ma ne avete 5 ok semplicemente era la sogna minima cioè quello dice devi stare a sto tasso di sfida altrimenti qui sotto non ci puoi entrare ora che si vince l'oggetto che vi dice in più vi da una selezione sempre di 3 porte diverse in più c'è un malus a tutto questo per vincere nella stanza dell'erebo e poter prendervi il premio e accedere a una delle altre porte dovete vincere contro i nemici senza farvi mai colpire come venite colpiti la sfida si ferma e voi non avete più la ricompensa viene dato uno spicchio di cipolla questo è tutto ok finalmente siamo tornati fuori dal game torniamo a una connotazione più classica dei miei video e vi voglio parlare però della trama allora ormai io penso che voi siate già riusciti ad uscire almeno una volta dall'Ade e che ovviamente si spera siete riusciti pure a battere Ade a quel punto vi sarete accorti di un fatto che Zagreus non può resistere all'esterno diciamo la fuga è un miraggio lui da quel momento in poi esce per incontrare Persecone e ad un certo punto in poi voi la riuscite a portare di nuovo nell'Ade basta semplicemente fare tutta una serie di vittorie e ad un certo punto la trama va avanti naturalmente e riuscite a fare quello che dovete fare il problema principale è questo che in realtà voi vedete un finale quello però non è il finale del gioco perché c'è ancora la questione da risolvere con le divinità che pensano che voi state cercando di fuggire per unirvi a loro sul monte olimpo no? e infatti se voi avete il tavolo delle profezie vi esce pure una richiesta di riuscire ad escogitare un piano con Persephone in merito alla questione delle divinità quindi voi che cosa dovete fare? dovete aumentare le relazioni con le divinità con tutte le divinità e con Persephone per arrivare a questa soluzione finale problema vero e proprio è che quindi voi gli dovete dare il nettare ma non sempre vi si palesano le divinità che vi servono certo gli oggettini gli oggettini che loro vi ricavano la prima volta che voi gli date il nettare vi aiutano a far sì che esca quella divinità che voi cercate ma comunque ne potete utilizzare al massimo in una run 3 perché sono 3 le volte in cui potete cambiare l'oggettino anzi fa in realtà 4 se ci vogliamo contare pure quella iniziale cioè la partenza ok però quelli sono cioè ogni run anche se andate molto veloci molto veloci molto velocissimi sì molto veloci comunque se non avete un livello di abilità altissimo comunque meno di 18 minuti non ci potete mettere cioè seppure andate come dei treni a meno che non siete degli speedrunner la velocità quella io ad esempio il massimo che ho fatto è 27 però ci sono delle combinazioni di armi e doni che vi permettono di raggiungere quegli abitivi però ancora una volta una cosa è io parto con l'idea che voglio fare il più velocemente possibile quindi vado ad efficientarmi i miei doni una cosa è io devo dare le boccette a Afrodite e a Dionisio mi servono loro non mi posso mettere a pensare ai doni quindi se voi volete ottimizzare il tutto voi prima di fare le run dovete capire perché state per iniziare con la nuova partita se non volete rischiare di perdere tra virgolette comunque spendere tantissimo tempo dietro a questa cosa perché voi potete decidere di giocare perché volete arrivare fuori con le forme speciali dell'arma perché volete sbloccare la ricompensa legata a questo obiettivo ok però magari voi volete fare la corsa per arrivare a parlare con Eulicia perché magari non avete finito la relazione con lei oppure con Patroclo che sta nei campi Elisi oppure semplicemente voi vi manca soltanto incontrare le divinità e quindi a voi basta incontrare le divinità e dargli il nettare tenete a mente perché state partendo per giocare questo è importantissimo voi potete decidere pure ad esempio di dare un totto di doni poi farvi ammazzare e riprendere la corsa in modo da risettare sia i dialoghi a casa quindi con i personaggi nella dimora e sia poi i doni per le divinità quindi voi cioè cercate di capire pure cosa volete fare è importantissimo cioè datevi degli obiettivi in base a quello che è la vostra relazione con i personaggi e dove la volete portare è importantissimo altrimenti cioè vi perdete e rischiate di fare anche gare a vuoto ora non è un problema se vi piace giocare perché adesso è un gioco fantastico e si lascia giocare che è una meraviglia però magari voi ad un certo punto non gli volete dedicare più una certa dose di tempo e passare ad altro però è un peccato non portare avanti la trama così strutturata perché credetemi c'è tanto dietro e insomma questo conclude un po' quella che è la guida per gli esperti io vi ringrazio per avermi seguito fin qui spero che i consigli vi siano stati d'aiuto per qualsiasi domanda potete scrivere nei commenti oppure sui miei social insomma dove volete noi ci vediamo alla prossima ciao